Musica Ci sono due tipi di persone al mondo, gli esperti e i multipotenziali. Facciamo un po' di chiarezza. Mi immagino il percorso di vita degli esperti più o meno così, abbastanza lineare perché sono persone specializzate in un unico ambito, come gli avvocati, gli scienziati, gli idraulici o i parrucchieri. Tra i grandi personaggi della storia un esempio potrebbe essere Irene Curie, figlia della più nota Marie Curie, incredibile scienziata. Lei è un'esperta perché ha dedicato la sua intera vita allo studio degli elementi radioattivi per poi vincere un premio Nobel in chimica. I secondi, i multipotenziali invece, sono persone che nel tempo hanno coltivato diverse passioni e che sono riusciti a collegarle tra loro, come gli artisti creativi o gli eclettici. Escher, ad esempio, artista del Novecento, lui era un multipotenziale perché ha unito la sua passione per la matematica con il suo amore per l'arte, realizzando così opere meravigliose che uniscono questi due mondi. E sebbene all'apparenza gli esperti e i multipotenziali sembrano così diversi, in realtà c'è una cosa che hanno in comune, la costanza. Nei primi sono proprio gli anni e anni di studio. Il continuo e costante miglioramento nello studio di un unico determinato tema porta loro ad essere degli esperti. La costanza dei multipotenziali invece si esprime in maniera un po' diversa. Infatti, nonostante abbiano diverse passioni, loro riescono costantemente a convogliarle in delle attività che le esaltano. Com'è il caso di Escher? Beh, ora la domanda sorge spontanea. In quale delle due categorie vi mettereste? Così, istintivamente. Io, a dirvi la verità, ci ho pensato a lungo, ma non riesco a sentirmi in nessuna di queste due categorie. Così, alla fine, ho creato una nuova categoria, o meglio, una non categoria. Quella degli incostanti. Persone così curiose che vorrebbero sapere qualsiasi cosa, che amano scoprire, imparare, e meravigliarsi, così assetate di novità, di stimoli e interessi, che però, alla fine, rischiano di non concludere molto e spesso si sentono perse nella vita. Insomma, gli incostanti sono agli estremi, esperti in niente e multipotenziali in tutto. E beh, ormai l'avrete capito. Ciao, sono Alberto Giannone e sono un incostante. Qualcuno di voi si sente come me? Beh, non sono l'unico, almeno. E oggi, quindi, voglio raccontarvi com'è vivere da incostanti in un mondo di costanti. Quando gli organizzatori di questo evento mi hanno chiesto di scrivere due righe con la mia biografia, io subito panico, chi sono, cosa faccio? Questo genere di domande mi mettono sempre ansia, perché non riesco a definirmi. Fortunatamente ho trovato una soluzione, o meglio, un trucchetto, non ditelo in giro, ma la descrizione di ciò che faccio la cambio in base a chi ho davanti. Così, per alcune aziende con cui collaboro, sono un consulente marketing e aziendale, dato che ho studiato economia. Per alcuni, invece, sono un divulgatore scientifico, dato che sui social racconto quanto sia bella la scienza con il progetto divulgamento. Per altri, sono un autore, dato che l'anno scorso ho pubblicato un libro. E per mio nonno? Beh, a mio nonno dico che faccio video come quelli che vedi in tv, ma su internet. Anche se dalle facce che fa non mi sembra che abbia capito proprio bene bene. Comunque, ci tengo a dire che essere incostanti non è una scelta, ma è il proprio modo di essere. Io mi sento incostante da sempre, fin da bambino. Da ragazzino, ad esempio, amavo suonare il piano sognando di diventare come Beethoven, ma subito dopo prendevo in mano la chitarra elettrica sognando di diventare come Slash. Poi, alle superiori, ho fatto una scelta abbastanza controcorrente. Infatti, dopo due anni, ho cambiato scuola. Sono passato da un tecnico a un liceo non perché andassi male con i voti. Anzi, andavo benissimo. Semplicemente perché avevo capito che non era la strada giusta per me. E il liceo scelto era perfetto per proseguire con università scientifiche come fisica, chimica, biologia. E mi chiedo ancora, chissà che confusa sarà stata la mia prof quando alla maturità mi ha chiesto Giannone, ma l'anno prossimo cosa vuoi studiare? E io risposi psicologia o filosofia? E alla fine, ho scelto economia. Certo, per un incostante può essere anche divertente raccontare tutti i progetti, gli aneddoti, le esperienze passate nel tempo. Ma finiti i momenti di entusiasmo, ecco che arrivano i momenti bui. Perché si ha spesso una vocina nella testa che dice non so cosa fare nella vita. E questa vocina purtroppo mi ha portato ad abbandonare diversi progetti lavorativi solamente perché, proiettandomi nel futuro, non sapevo se fosse quello che volevo fare nella vita. Già, quando si è incostanti ci si sente eternamente sbagliati, incoerenti, insoddisfatti perché si va fuori dall'immaginario comune. E ne sono sicuro, chiunque sia stato incostante o è incostante almeno una volta nella vita ha cercato la propria passione o la propria strada ma spesso non c'è riuscito, senza successo, come nel mio caso. E ve lo assicuro, io ho provato a fare il costante in più occasioni ma l'unica costante è che continuavo a fallire nel cercare di essere un costante. E così passano gli anni. Vedo i miei amici trovare la propria strada, trovare un lavoro sicuro e io sempre con quel maledetto tormento in testa non so cosa fare nella vita. Poi nel 2020 accadde qualcosa, qualcosa di speciale e no, non sto parlando del coronavirus, della quarantena o altri disastri di quell'anno sto parlando del Natale del 2020. Quel giorno infatti uscì il film della Pixar, Soul. E se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo il prima possibile perché dietro a questo divertente film ad animazione si nasconde in realtà un messaggio molto profondo. In particolare una singola frase ha cominciato a risuonarmi in testa. Da ora in poi, cosa farai nella vita? Ne assaporerò ogni istante. Urca! Mi sono detto, ma allora non è che noi incostanti stiamo sbagliando punto di vista? Non è che siamo così focalizzati nella paura di non raggiungere un obiettivo a lungo termine che poi ci dimentichiamo di goderci il presente? E grazie a Soul quindi la mia testa ha fatto click e sono passato da non so cosa fare nella vita a ne assaporerò ogni istante. In quel periodo ad esempio mi piaceva creare contenuti divulgativi e quindi mi sono detto, vabbè proviamoci, ora mi impegno, mi godo il processo, non mi pongo nessun obiettivo a lungo termine e vediamo come va. E solo così ho cominciato a vivere delle esperienze bellissime totalmente non programmate. Ad esempio ho cominciato a raccontare quanto sia meravigliosa l'astronomia, passione che avevo ma che consideravo inutile per il mio percorso di studio lavorativo. Eppure, grazie proprio a questo, l'Agenzia Spaziale Europea mi ha invitato a vedere dal vivo i moduli della missione Artemis, quella che riporterà gli uomini sulla Luna, oltre che conoscere alcuni astronauti. Raccontare quanto sia bello essere curiosi mi ha portato a pubblicare un libro con una grande casa editrice italiana, proprio sulla curiosità. E il non essere focalizzato su un unico argomento mi ha portato in Etiopia, a passare un periodo in un ospedale nel reparto di pediatria con una ONG. Ah, e questi due bambini che vedete erano gemellini prematuri, ma ora sono cresciuti e stanno bene, fortunatamente. Tutte queste esperienze sono state emozionanti, ma sono state completamente inaspettate, non me le sarei mai poste come obiettivo a lungo termine. E poi, chi l'avrebbe detto? Che tutti i progetti iniziati, quelli conclusi, tutte le passioni arrivate, poi scemate, mi avrebbero portato proprio qui, oggi, a parlare esattamente di questo. Insomma, bisogna ribaltare la visione. Per noi incostanti non è tanto il concludere qualcosa che ci rende appagati, ma semplicemente il fare qualcosa che ci appassioni. E, attenzione, non sto dicendo che bisogna usare l'incostanza come scusa per non impegnarsi nel proprio lavoro, nei propri studi, anzi, semplicemente si può capire che va benissimo invece di avere un obiettivo a lungo termine enorme, magari di porsene alcuni, di più piccoli, a breve termine. E tutto questo vi avrà fatto capire che chi vive da incostante vive una vita un po' fuori dagli schemi. A volte non si è neanche compresi da tutti, spesso neanche da se stessi. Ma se essere incostanti è la propria indole, allora bisogna saper accogliere questo modo di vivere. Perché la cosa straordinaria è che con questo spirito, abbracciando l'incostanza nell'ordinario, piccoli o grandi traguardi possono arrivare in maniera totalmente inaspettata. E lungo questo viaggio, con alcune porte che si chiudono, ma ricco di nuove strade che si avviano, come dice il protagonista di Soul, ricordiamoci di assaporarne ogni istante.